acquista titoli digitali a prezzi scontati su instant gaming utilizzando il link in descrizione e buona visione ciao a tutti ragazzi buon mercoledì e benvenuti in questa nuova puntata di pokemon tech oggi andiamo ad analizzare l'altro quadrupede inserito con il dlc ossia spectrier ieri abbiamo lanciato il video di glacier abbiamo lanciato anche l'altro tech di regidrago se andate ancora più indietro trovate quello di galar articuno di galal mortres insomma di regi e lecchi stiamo producendo tanti 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 pokemon tech quindi se vi piace questo format rufolate un po nel canale che ne trovate già 45 e ne usciranno ancora tanti tanti altri perché questa serie 7 è davvero super analizzabile ci sono tanti pokemon nuovi molto interessanti ma anche pokemon vecchi che tornano che magari saranno rivestiti di nuovo mi raccomando cari ragazzi sono qui non solo a chiedere mi piace l'iscrizione al canale ma ricordarvi che domani la giornata di domani pampling la dedica alla serie 7 quindi con lo sconto series 7 il codice promozionale series 7 che vedete peraltro comparire così come da grafica domani avrete 25 per cento e spedizione gratuita quindi andate innanzitutto adesso a riempire il carrello su pampling.com il link lo trovate in descrizione e poi domani svaleggiatelo poi di ricordarvi che oggi ci vediamo ore 14 in live su quello viola facciamo portiamo avanti il gameplay di rubino perché si ok dlc ma oen ragazzi è sempre oen e poi alle 18 ci rivediamo nuovamente seconda live giornaliera per spaccare in serie 7 giocheremo in best of 3 vi voglio anche sfidare vi voglio anche sfidare quindi preparate i vostri team anche rudimentali chi se ne frega buttatevi che magari potreste essere voi a giocare proprio contro di me o comunque se non siete pronti seguite la live perché ci sarà tanto spero mi auguro da imparare ma adesso spectre il primo set che vi propongo è ovviamente il set life orb con shadow ball dark pools mudshot e protect facciamo una considerazione prima generale torniamo quindi un attimo indietro su spectre spectre tipo ghost potrebbe sembrare il doppione di dragapult e io infatti non ho mai nascosto il fatto che se proprio proprio dovessi giocare un pokemon ghost veloce glass cannon che fa danni probabilmente giocherei dragapult lui è diverso però è un pochino meno veloce ma più potente e poi è prettamente un attaccante speciale e non fisico e questa cosa non mi fa impazzire per un dynamax di tipo fantasma che come dragapult invece se fosse molto prettamente più offensivamente fisico come il draghetto di galar potrebbe snobollare con la max fantasma andando a sparare la mossa dynamax di tipo spettro calare la difesa dell'avversario e poi quindi ancora entrare come un coltello caldo nel burro nelle difese avversari così non fa però comunque è indecentemente forte perché ha 145 di base stat di attacco speciale ma anche un'abilità veramente ragazzi cioè questo prende grim knight prende il più uno in attacco speciale tutte le volte che fa una kill è praticamente una ultra creatura ok solo che scelgono loro quale farti aumentare quindi non quella più alta ma aumenta l'attacco speciale che comunque probabilmente avendo 145 sarebbe la più alta e quindi voi è vero non snobollate se fate fantasma nel senso che calate la difesa dell'avversario ma snobollate tutte le volte che fate una kill e quindi questa cosa può starci c'è una pecca però questo spectre meno male ossia non ha un moon pool molto gradevole a shadow ball e poi dark pulse per le speciale ovviamente hyper beam mudshot mudshot gliela diamo nonostante sia una mossa da 55 perché diventa una max quake e potrebbe essere interessante perché il ragazzo qua non ha pochi ps ha 100 base stat le difese la difesa fa un po' cagarisce mobisio la difesa 60 fa un po' schifo però quella da 80 a 60 la difesa fisica la possiamo coprire un po' con le prepotenze con le intimidate la difesa speciale invece da 80 con la max quake possiamo costruirci sopra una resilienza di tipo speciale che potrebbe tornarci utile per magari sfruttare e snobollare bene lo stare in campo e quindi più uno o più due più tre che abbiamo preso con grim knight man mano che si fa una kill questo signore così come da consiglio di sejun park nella live che abbiamo peraltro visto ieri sera su quello viola e che poi vi proporrò ricaricata sul canale lo giochiamo modest perché uno dei centri focali del meta ormai lo abbiamo capito e fra le poche cose che intanto abbiamo messo per certo in questa meta in questa serie 7 sarà metagross anche un po' bulcozzo dynamax e lui con la max phantasm speciale life orb modest ha un bel rollazzo alto alto di tirarlo giù a seconda della spread ecco perché non mi metto il calcolo chiaramente dell'avversario perché usa su metagross dare qualche ev ebsella in difesa speciale quindi ebsella peraltro fra rima con pietro xella ciao pietro e quindi modest ce lo giochiamo assolutamente modest set sul quale onestamente non c'è altro da dire ma il bello di spectre e l'ho imparato a mie spese in un game one ieri l'alto tre giorni fa contro toon gamer è che può essere anche un buon supporter perché impara snarl e bulldoze abbiamo parlato di metagross prima per sconfiggerlo con spectre qui lo potremmo catalizzare con il nostro spectre con bulldoze quindi se vi giocate un metagross con weakness policy lui con bulldoze prende tutti quindi anche eventuali redirector avversari vengono fritti e triggera la weakness policy a metagross peraltro senza andargli a diminuire la velocità in virtù di corpo chiaro clear body ma anzi andando addirittura a fare speed control sul terreno dell'avversario calando speed a destra e a manca gli ho messo una yapapa in questo set e ho maxato ips e la velocità perché chiaramente lo deve fare per primo e gli ho messo anche snarl così proprio come mi ha insegnato il buon toon gamer poter apprendere spectre che io non lo sapevo prima di quella best of three ecco perché aperti sverbis ve lo dico è importante seguire le live ragazzi perché si impara tante cose alle 18 vi aspetto laggiù francesco partini bgc ma adesso basta spamming di quello viola andiamo avanti bulldoze snarl e la shadow ball ci vuole comunque per fare dannetti anche perché ragazzi 145 non toccati sono un'esorbitanza cioè con quattro eps come potete vedere arriva a 166 è l'equivalente di un 252 più che ha 100 quindi neanche poco in più sta per di natura quindi un modest ok 252 che ha 100 di base stat arriva a 167 non si arriva a 166 e non è male quindi voi ci sta che comunque magari se trovate qualche brandello lasciato sul terreno di battaglia da metagross con la shadow ball facciate la kill prendete il più uno con grim knight poi a quel punto diventate anche pericolosi voi essi stessi quindi l'avversario potrebbe non sapere su chi focalizzare il proprio fuoco sul metagross che avete portato più due o sullo spectre che magari se lui si concentra tutto su metagross ti comincia a prendere più uno più due più tre quindi vi consiglio anche di provarlo così yapapa oppure citrus vedete un po voi e poi terzo che vi propongo e qui vogliamo assolutamente esagerare white herb invece perché white herb perché gira diverse ice wind gira diverse electroweb e noi non le vogliamo prendere queste electroweb così come vogliono facci snarl cari mortless galer noi si rimane a quanto siamo si fa nasty plot attenzione contro gli snarl sarebbe meglio dargli weakness polish quindi vedete anche un po voi su questo set dargli weakness polish perché vi fanno snarl invece di farvi perdere uno vi fanno guadagnare uno perché vi fanno almeno uno e poi prendete più due però white herb mi si è accesa una lampadina potrebbe essere figo proprio per tanti rege lecchi che ci sono che sono veloci vanno quando meno pensano di calarvi subito la velocità voi invece vi curate il meno uno preso in speed con white herb dynamaxate sperate max wake sui rege lecchi se sapete che non ha la session lo fate subito fuori andate a più uno di feta speciale e quindi prendete anche poi più uno in attacco speciale per via di grim knight oppure fate il nasty plot e dynamaxate dopo insomma questo set qua chiaramente vuole settare nasty plot quindi aiutatevi caso mai con un redirector rage power follow me fate vobis e poi cominciare a fare le kill shadow ball mud shot secondo me ci possono stare abbiamo bulcato un pezzettino di più ips dato 108 in attacco speciale ma questo giro abbiamo fatto timid con 200 secchi in velocità non c'è molto altro da aggiungere su spectre perché il move pool è questo cioè non ci sono altre mosse interessanti se no scary face che si può dare sullo slot del supporter se volete giocarlo puro senza bulldoze quindi senza un metagross da triggerare però boh onestamente non c'è molto altro da dire ma meno male perché avesse avuto delle mosse molto più ampia una coverage molto più sviluppata sarebbe stato un problema sarebbe stato veramente troppo troppo forte e già è forte già dobbiamo prestargli parecchia attenzione con questi cavallacci spectre glasier che ripeto trovate già sul canale il tech di glasier hanno fatto veramente un bel lavorino perché sono stati parsimoniosi li hanno fatti forti con delle statistiche potenti con un'abilità pisciata di fuori ma col move pool sono stati un pochino più timidi meno male ragazzacci il tech su spectre è concluso voglio sapere la vostra opinione nei commenti se notate in tutti questi giorni passati nei tech io sono sempre a rispondervi e poi iscrivetevi al canale se mi volete dare una mano a far crescere questo canale perché ebbene sì su internet c'è ancora qualcuno che non smadonna non ruta e non bestemmia per fare views e se volete premiarlo se no questo mondo andrà sempre più a rotoli ma no perché padini non fa 100k ma perché non premiamo poi alla fine della fiera chi si impegna in maniera genuina per portare dei contenuti fatti bene e sì l'odiamoci da soli ragazzi vi aspetto oggi ore 14 e ore 18 ciao